Carlo Piaggia, l'esploratore lucchese che sfidava i cannibali. Carlo Piaggia è stato un esploratore italiano nato a Badia di Cantignano, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca, il 4 gennaio 1827. Fin da giovane, Piaggia nutrì una grande passione per l'esplorazione e la natura, e iniziò a viaggiare in Africa all'età di 20 anni. Nel 1852, Piaggia intraprese la sua prima spedizione in Africa, esplorando il territorio dell'attuale Sudan. Durante questo viaggio, Piaggia scoprì il fiume Sobat, un affluente del Milo Bianco, e raggiunse le sorgenti del fiume Baro. Nel 1856, Piaggia intraprese una seconda spedizione in Africa, questa volta esplorando il territorio dell'attuale Etiopia. Durante questo viaggio, Piaggia raggiunse la città di Gondar, la capitale dell'antico impero etiope. Nel 1858, Piaggia intraprese la sua terza e ultima spedizione in Africa, questa volta esplorando il territorio dell'attuale Eritrea. Durante questo viaggio, Piaggia raggiunse il Mar Rosso, diventando il primo europeo a farlo attraverso il territorio dell'Eritrea. I viaggi di Piaggia furono caratterizzati da grandi difficoltà e pericoli. Piaggia dovette affrontare il clima caldo e umido dell'Africa, le malattie, la malaria e la fame. Inoltre, Piaggia dovette fare i conti con la popolazione locale, che spesso era ostile agli europei. Nonostante le difficoltà, Piaggia riuscì a portare a termine i suoi viaggi con successo. I suoi viaggi contribuirono a far conoscere l'Africa all'Europa e a stimolare l'interesse per l'esplorazione di questo continente. Piaggia fu anche un grande naturalista. Durante i suoi viaggi, raccolse una vasta collezione di animali e piante, che donò alle principali collezioni naturalistiche europee. Piaggia morì il 17 gennaio 1882, a Kharkog, in Sudan, a causa di una malattia. Le imprese di Piaggia Le imprese di Piaggia furono numerose e importanti. Tra le sue scoperte più significative si possono ricordare la scoperta del fiume Sobat, un affluente del Nilo Bianco, il raggiungimento delle sorgenti del fiume Baro, il raggiungimento della città di Gondar, la capitale dell'antico impero etiope, il raggiungimento del Mar Rosso attraverso il territorio dell'Eritrea. Piaggia fu anche un grande osservatore della natura e della popolazione locale. I suoi resoconti dei viaggi sono ricchi di dettagli e informazioni, e hanno contribuito a far conoscere l'Africa all'Europa. L'eredità di Piaggia Carlo Piaggia è considerato uno dei più importanti esploratori italiani dell'Ottocento. I suoi viaggi contribuirono a far conoscere l'Africa all'Europa e a stimolare l'interesse per l'esplorazione di questo continente. L'eredità di Piaggia è ancora oggi viva. A lui è intitolato un istituto scolastico di Capannoli, e nel suo paese natale è stato allestito un museo a lui dedicato. Un uomo coraggioso e avventuroso Carlo Piaggia era un uomo coraggioso e avventuroso, che non si tirava indietro di fronte alle difficoltà. I suoi viaggi sono stati un esempio di determinazione e spirito di avventura.